5 passi per far brillare il tuo talento Passo numero 1 Scegli i tuoi valori e allena i tuoi punti di forza Prova a domandarti Che cos'è che conta veramente per me? Passo numero 2 Trova la tua vision Trova il tuo sogno Passo numero 3 Trova il fattore che per te fa tutta la differenza Purtroppo spesso il talento viene bloccato dalla paura Che non sia una fonte di guadagni Che non sia di sostentamento per la tua famiglia E questi sono ostacoli enormi Che ci impediscono di stappare la bottiglia di champagne che siamo Qual è la cosa che quando la fai sei come in trance E che quando la fai il tempo vola completamente Ricorda che un obiettivo intelligente deve essere specifico Misurabile Raggiungibile Rilevante Questo significa che soltanto il pensiero che ogni giorno ti alzi per lavorare per quell'obiettivo Ti deve dare l'effetto wow Wow Io sto lavorando per questo Ti si deve smuovere lo stomaco E fissa sempre una data Walt Disney diceva sempre La differenza tra un sogno e un obiettivo è una data Grazie per la visione Come Grazie per la visione!